Alleluia! Apriamo le scritture in Matteo, dal capitolo 28. Sono meravigliose le testimonianze. Puoi vedere con gli occhi quello che Dio fa e compie nelle vite degli altri è qualcosa di straordinario. Che il Signore veramente possa aprirci gli occhi come abbiamo cantato, aprire gli occhi per vedere Gesù. Vedere Gesù in tutte le sue sfaccettature, vederlo nella sua gloria, ma vederlo anche in mezzo a noi che cammina, in mezzo a noi che compie meraviglie nelle vite dei fedeli. Matteo, capitolo 28, leggeremo dal versetto 19. Dice, andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, notate questa parte. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Vi siete mai chiesti come mai Egli sarà con noi fino a un certo tempo? E non sarà con noi per l'eternità? Perché alla fine di questa età Lui smetterà di essere con noi perché noi poi saremo con Lui. E questo è qualcosa da considerare e per questo abbiamo anche questa meravigliosa speranza. Noi guardiamo il nostro futuro con grande aspettative. Nel frattempo andiamo a leggere in Efesini, capitolo 1. Aspettative per ciò che Dio ha già preparato ed è pronta a fare in questa età, perché ancora siamo in quella stessa età di quando Gesù è morto ed è risuscitato. Siamo ancora in quella età. Però siamo agli sgoccioli della fine di quella età. Non dovremmo più pregare che il Signore sia con noi. Che poi non bisognerebbe mai pregare che il Signore sia con noi perché il Signore dice io sarò sempre con voi. Quando ci ha detto che ci lasciava, dice io non vi lascio e non vi abbandono. Quindi noi sappiamo che Lui al presente è con noi, giusto? Però c'è qualcosa che bisogna fare durante questo tempo ed è separarci dalle esperienze passate. Se mi date del tempo ci lavoreremo su questo concetto perché il nemico del futuro è sempre il passato. Oggi siamo in una decisione, oggi ci troviamo in quella posizione dove dobbiamo decidere che il passato non avrà il sopravvento sul nostro futuro. Leggiamo dal versetto 7 e dice così da Efesini capitolo 1 versetto 7 in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacido che egli aveva determinato in se stesso per raccogliere, ecco il versetto che volevo raggiungere per raccogliere, diciamo insieme per raccogliere la distanzazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo qualche cosa quante cose? tutte le cose, grazie per la vostra correzione tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra per raccogliere nella dispensazione per raccogliere in questa età presente di cui parlavamo raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi fino alla fine o quando si compiranno i tempi di portare tutto, quello che è in cielo e quello che è sulla terra portare tutto sotto un solo capo che è Cristo Gesù il Signore egli è il capo della chiesa in Cristo tutte le cose, non alcune cose ma tutte le cose devono essere assoggettate a lui e alla sua autorità tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra andiamo in ebrei libro degli ebrei epistola ebrei leggeremo dal capitolo 9 alleluia quanti di noi ci piace leggere l'antico testamento non è il capo della chiesa vuoi fare di cagnolini che si mettono a rete in tamagra quanti di noi ringraziamo Dio per il nostro passato quanti di noi ringraziamo Dio per il presente sta migliorando la cosa quanti di noi ringraziamo Dio per il nostro futuro ma facete scantare alleluia spesso anche tra i credenti c'è confusione e abbiamo bisogno di capire che è necessaria un'assoluta dipendenza sul sacrificio di Cristo noi diciamo non per i nostri meriti ma per i suoi meriti però a volte parlando dei suoi meriti vogliamo in qualche modo includere quello che non giova più cosa voglio dire tutte le prescrizioni le leggi dell'antico testamento e ce ne è quando voi sono studenti di scuola biblica quante ce ne sono? 613 grazie 613 tra legge e prescrizione l'antico testamento quanti noi ringraziamo Dio che viviamo nel nuovo testamento ma spesse volte leggendo l'antico testamento può portare confusione al nuovo testamento per quale motivo? perché nell'antico testamento noi parliamo sempre di ombre di cosa avvenire non stiamo parlando di quello che era la realtà era un'ombra di qualcosa che doveva venire fratelli noi non viviamo più nell'ombra di quello che doveva venire noi stiamo vivendo nella realtà di quello che fu promesso a noi nell'antico testamento ci sono tante cose che possono essere considerate nel nuovo testamento come cose che ancora devono essere o devono manifestarsi ma quando si è manifestato Cristo ha risolto il problema non c'è nient'altro che deve manifestarsi solo l'adempimento e compimento di tutte le cose che cosa stiamo dicendo? tutto in questo frangente di tempo in questi duemila anni da quando è venuto Gesù la prima volta tutto deve essere sottomesso e sottoposto all'autorità di Cristo Gesù e il Signore ha chiamato noi come ha chiamato la sua Chiesa sparsa per tutto il mondo a capire che questo è il tempo ed è il momento per essere collaboratori di Dio in quanto dobbiamo sottoporre tutto ai piedi di Gesù Cristo la scrittura dice che Egli deve regnare finché tutti i Suoi nemici siano o diventino lo sgabbello dei Suoi piedi tutto ciò tutti i Suoi nemici ma che cos'è il nemico? il nemico spesso pensiamo è il diavolo no no il diavolo è diventato lo sgabbello dei Suoi piedi duemila anni fa non funzionava da due parti però da questa parte Gesù ha risolto il problema del diavolo duemila anni fa siete meglio faremo tutto mezzo duemila anni fa Gesù ha risolto il problema del diavolo il problema che poi continua anche se Gesù ha risolto quel problema è l'inganno dell'umanità adesso bisogna risolvere questa parte perché tanti hanno creduto in qualcosa di passato che nel presente non bisogna credere più non bisogna accettare più c'è qualcosa che è finito duemila anni fa è finito Gesù ha posto fine a tutte quelle cose e come poniamo fine a tutte queste cose? Lui ha dato la sua vita ha sacrificato se stesso ha sparso il suo sangue e gloria a Dio per questo l'ha fatto ma adesso quanti di noi crediamo che quel sangue è così tanto efficace da distruggere e sottomettere ogni cosa che Satana desidera propinare alle genti alle nazioni alla Chiesa e quanto è difficile anche per noi ministri quanto è difficile lavorare con una gente o con un popolo o con dei fedeli che sono così sono stati così accattivati da narrative che non sono da Dio forse l'aspetto più difficile e il lavoro più arduo dei ministri del Signore è di provvedere quelle parole convincenti da parte dello Spirito che possono produrre in voi un santo distacco da quello che era per rivolgersi verso quello che sarà state seguendo? Nell'Antico Testamento ovviamente potremmo parlare del sacerdozio e del sacerdozio si considera sempre che una volta l'anno entravano nel luogo santissimo e lì offrivano un olocausto presentavano al Signore il sangue di un toro o di un agnello come pagamento per i peccati del povolo ovviamente noi non abbiamo idea di queste cose e il motivo per cui non abbiamo idea di queste cose è perché oggi o almeno noi che siamo gentili che non proveniamo dal giudeismo oggi di queste cose non ne comprendiamo anzi ne comprendiamo poco però la religiosità che cosa ha fatto? e ha usurpato quell'esercizio alla quale Cristo ha posto fine per riattivarlo oggi in questa dispensazione in una maniera diversa cioè quante quante persone conosce spero che non sii tu a voler in qualche modo convincere il padre che sei bravo abbastanza per meritare qualcosa da parte di Dio lo spero che non sia qualcosa tra di noi purtroppo è una è un innato desiderio dentro ciascun credente il voler appagare la propria coscienza e attraverso l'appagare la propria coscienza in qualche modo soddisfare o metterci in pace se ci sentiamo in pace con noi stessi e pensiamo di essere anche in pace con Dio ma l'unica persona a metterci in pace con Dio è Gesù Cristo egli è l'autore della nostra pace con Dio e non c'è non c'è cosa alcuna che tu possa fare per meritare qualcosa di meglio alla presenza di Dio niente stai perdendo il tuo tempo dice la persona accanto stai perdendo il tuo tempo assumevi ovviamente che la persona accanto faceva i suoi lavori per ottenere grazia da Dio ma Cristo ascoltatemi bene Cristo è venuto per compiere qualcosa di meraviglioso a pro dell'umanità e tutti coloro che ripongono la loro fiducia in quel suo sacrificio in tutto quello che Gesù ha compiuto sulla croce vivono nella massima libertà sai chi non vive nella libertà colui che è ingannato mi spiego Satana non ti inganna per tirarti fuori dalle tenebre solo Gesù solo Gesù fa questo se ti inganna è perché vuole metterti nelle tenebre o farti continuare a vivere nelle tenebre quando si parla di Dio in Lui non c'è tenebra alcuna dice la scrittura Lui è perfetto in tutto quello che fa quindi non deve ingannare Lui può essere luce può essere esempio per tutta l'umanità e chiunque ripone la propria fiducia in Lui vede una nuova aurora non ti esaltare aurora appena dissi aurora va dai 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 perché in Cristo c'è un nuovo giorno quanti noi cristiani che abbiamo accettato Cristo nella nuova vita è stato un giorno nuovo per quanti di voi è stato un giorno nuovo certo che è stato un giorno nuovo perché tutto ad un tratto le cose di ieri non importavano più non riuscivano a fare la differenza in quel momento in quell'esperienza dove una relazione e un rapporto con Dio si poteva vivere nella piena e massima libertà cioè la realtà della sua presenza nella nostra vita quando c'è confusione quando c'è inganno si vive in una pseudo libertà c'è una falsa libertà si pensa di essere liberi mentre si è schiavi la vita del cristiano non può dipendere assolutamente non può dipendere da sensazioni sentimenti perché chi vive di sensazioni e sentimenti sarà per certo ingannato perché sentimenti e sensazioni sono dell'anima non sono dello spirito la parola della verità si manifesta nel nostro spirito non si manifesta nella nostra anima anzi se la scrittura ci dice di vivere per lo spirito e se camminiamo per lo spirito e il nostro spirito ha dominio sulla nostra vita la nostra carne si mette in linea quindi Cristo è venuto come il perfetto sommo sacerdote per risolvere per noi la questione della grazia di Dio la grazia abbiamo detto è favore non meritato cioè da lui siamo stati grandemente favoriti e questo è qualcosa di straordinario ma che cosa ha fatto in questo favorirci e come ci ha tirato fuori dalle tenebre per portarci nella luce lo ha fatto perché in qualche modo una si è aperta una piccola fessura ed una luce un raggio di luce della verità ha penetrato il nostro essere è entrato dentro di noi e ha cominciato a portare un cambiamento cominciamo a vedere cose diverse c'è qualcosa di particolare il Signore si sta muovendo il Signore sta facendo qualcosa quanti voi avete capito quello che Dio ha fatto mi dispiace io posso dirvi che tante di quelle cose che il Signore ha fatto nella mia vita non capiva un H come si dice non riuscivo a capire niente di quello che faceva però nel tempo ho visto un cambiamento nella mia vita quanti voi potete testimonire di questa cosa non necessariamente riesco a risolvere tutte le cose di Dio ma so che Lui viene con la Sua parola per scindere per separare quello che è carne da quello che è spirito quello che è quello che è passato e quello che è futuro perché vuole che io sia isolato nel futuro o in vista di qualcosa di particolare invece di continuare a mangiare ascoltatemi a mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male noi abbiamo bisogno di mangiare dall'albero della vita e non della conoscenza del bene e del male perché il male regnava ma adesso che egli ci ha restaurati ha ripristinato la nostra vita ha guarito la nostra vita adesso siamo appartati per Lui per un glorioso futuro quindi Cristo è dovuto venire leggendo qui in ebrei dal capitolo 9 versetto 6 9 6 essendo queste cose disposte così i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino quanti noi abbiamo capito che siamo tutti quelli che sono salvati sono stati stabiliti come sacerdoti e quindi ogni giorno nel nostro rapporto col Signore abbiamo libertà di entrare nel tabernacolo dice ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno non senza sangue che egli offriva per se stesso e per i peccati d'ignoranza del popolo lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo mentre c'era il primo tabernacolo dove il sommo sacerdote entrava una volta all'anno a offrire il sacrificio per tutti i peccati del popolo nella seconda nella seconda cioè secondo Cristo non è più necessario e lo Spirito Santo l'ha celato a quelli dell'Antico Testamento ma l'ha rivelato a noi noi abbiamo altri diritti nel Nuovo Testamento gloria a Dio per l'opera efficace del Calvario dice il quale dice è una figura per il tempo presente voleva indicare che i doni e i sacrifici offerti non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino trattandosi solo di cibi di bevande di varie obluzioni e di ordinamenti carnali imposti fino al tempo diciamo insieme fino al tempo del cambiamento cioè c'era un tempo arrivava un tempo quando tutto questo finiva quello è finito duemila anni fa non c'è più non entriamo più non è che c'è qualcuno fuori che sta scannando qualche animale perché vogliamo portare il sangue qui dentro per dire offriamo questo il sangue di un toro o il sangue di un agnello un signore non scansa e libera come si dice a canzire che ci liberi da questi modi di pensare quanti voi siete entrati liberamente alleluia con questa libertà con il quale siamo entrati entriamo direttamente alla sua presenza perché la cortina non esiste più non c'è più il velo è stato strappato perché il suo corpo che è la cortina è stato strappato ha aperto e adesso abbiamo libero accesso abbiamo libero accesso alla presenza di Dio che meravigliosa grazia e noi entriamo come siamo tutti entrati qui dentro siamo entrati da sacerdoti liberi liberi e pronti per adorare il nostro Dio alleluia gloria a Dio dice fino al tempo del cambiamento quando Gesù è arrivato a posto fine a quell'epoca a quella età adesso egli è con noi alleluia e non si incontra ascoltatemi bene non si incontra entrando nel tabernacolo perché adesso noi siamo il tempio dello spirito alleluia alleluia non mi ricordo chi ha detto ultimamente dice quando ce ne andiamo tutti lo spirito santo fa mi sento solo c'entra se ne andranno tutti se ne sono andati tutti restavo solo ma quando ce ne siamo andati quando ce ne andiamo noi ce lo portiamo con noi noi non siamo qui per creare un altro tabernacolo dell'antico testamento oh signora aiutami non finirò questo messaggio oggi lo finiremo la prossima settimana a Dio volendo ma vi devo dire che tanti questo modo di dire ta chiesa per tutti coloro che riescono a parlare in dialetto messinese diciamo ta chiesa ci sono pochi che parlano di dialetto tutti l'altro parlano italiano ta chiesa è come se ta chiesa succede qualcosa di straordinario no non ta chiesa è nell'insieme quando noi tutti veniamo insieme succede qualcosa perché tu sei un membro del corpo di Cristo e quando ci raduniamo insieme noi formando il corpo di Cristo viene il il capo il capo della chiesa scende il capo della chiesa e si pone su queste spalle e tutto ad un tratto il suo corpo è perfetto e la sua gloria si manifesta ed egli parla ed egli ascolta nella nostra collettiva ubbidienza perché perché ubbidiamo alla sua parola ci raduniamo insieme non per fare numero e non per fare spettacolo noi siamo qui per la presenza del gran re che si che viene perché siamo tutti insieme di un solo cuore e di una sola mente gloria a Dio che cosa meravigliosa stare alla presenza di Dio fratelli noi non stiamo entrando nel luogo santissimo noi viviamo nel luogo santissimo alleluia noi non dobbiamo bussare alla porta se egli bussa alla sua alla porta non sta bussando alla tua porta come se tu non lo volessi far entrare perché egli già vive dentro di te forse bussa ad alcune aree della tua vita che tu non gli vuoi dare accesso questo è un altro discorso ma il momento in cui il momento in cui Gesù è riconosciuto come signore della propria vita egli ha la libertà di esprimersi attraverso di noi ed ecco un tempio che cammina un tempio che va in giro un tempio che parla alle persone un tempio che manifesta la gloria di Dio un tempio che parla della grandezza di Dio questo è il tempio non sai tu che tu sei il tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo che dimora in te vuole esprimersi attraverso la tua vita a tutti quelli che non lo conoscono cosa meravigliosa alleluia signore aiutami o sia da sorella aiutanni alleluia ma Cristo essendo venuto come sommo sacerdote sommo sacerdote dei beni futuri delle cose future egli è venuto in vista di quello che avrebbe fatto in vista di quello che avrebbe provveduto per tutti noi in vista della dimostrata potenza come l'abbiamo visto nelle nostre vite guarigioni dal cancro alleluia interventi sovrannaturali racconti testimonianze viventi fatti da fratelli e sorelle che raccontano della grandezza di Dio fratelli questo è veramente un tempio da parte del signore dove lui si esprime con potenza per toccare le vite di coloro che lo cercano in verità in beni in vista dei beni futuri attraverso un tabernacolo un grande più perfetto non fatto da mano d'uomo cioè non di questa creazione entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri di videlli ma col proprio sangue avendo acquistato una redenzione eterna infatti se il sangue dei tori e dei capri è la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati i contaminati li santifica purificandoli nella carne quanto più il sangue di Cristo che mediante lo spirito eterno offersa se stesso puro di ogni colpa a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente ci fermeremo qui ma voglio dirvi fratelli le tue opere non valgono niente i tuoi sacrifici al Signore tu puoi dare dice anche se io dessi il mio corpo per essere arso ma non ho amore quale amore non l'amore il sentimento che hai tu personalmente ma se non hai l'agape amore di Dio dentro di te che ti fa amare forse quello che è più puzzolente la persona che è più peccaminosa la persona che non conosce Dio è forse il più malvagio e il re degli empi se tu non riesci ad amare queste persone tu sei un cembalo squillante fai sullo sciafogo ma non c'è niente dentro di te che dà dimostrazione del grande amore di Dio che sopravanza e avanza oltre ogni intelligenza e sapienza umana che va a toccare l'uomo nel suo più profondo bisogno alleluia alziamoci in piedi continueremo la prossima settimana alleluia ascoltatemi fratelli oggi noi stiamo vivendo in un tempo molto particolare l'apostolo Paolo disse a Timodio e tu mio figlio sii forte e fortificati nella grazia del Signore Gesù Cristo noi dobbiamo fortificarci nel messaggio della grazia perché noi dobbiamo essere il messaggio della grazia non potete raccontare quello che avete udito dal pulpito tu lo devi vivere personalmente e noi vogliamo lavorare finché il messaggio della grazia dentro di voi sia così reale da poter perdonare chiunque da poter amare chiunque da poter essere Gesù in carne manifestata all'umanità questa umanità che ci circonda si dovrebbe dire di noi ma sei veramente tu Gesù no sono solo un ambasciatore per Gesù Cristo ma l'ambasciatore deve essere un perfetto un perfetto ambasciatore lo deve rappresentare nella sua perfezione nella sua bontà nella sua misericordia questo a questo fratelli siamo stati chiamati il futuro ci aspetta ed è il passato che ci blocca e non ci permette di andare avanti andare oltre verso il compimento di tutte le cose Gesù è seduto lì che aspetta aspetta che la sua chiesa sia pronta e che il padre gli dia il via di ritornare quanti noi aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo lo aspettiamo con tutto il cuore lo aspettiamo lo aspettiamo in modo da dire speriamo che sogno pronto perché sei preoccupato chi veramente conosce il Signore non è preoccupato lo sente dentro sente l'approvazione di Dio dentro di sé e sa di appartenere a Lui alziamo le mani al cielo Signore grazie per la Tua parola Signore grazie per come ci stai guidando grazie Signore perché noi siamo stati veramente grandemente favoriti nell'amato Tuo Figlio e Tu ci hai resi partecipi Signore di questo compito meraviglioso è di mettere sotto i Tuoi piedi o rendere lo sgabbello dei Tuoi piedi qualsiasi cosa che vediamo il nemico fare noi Ti ringraziamo Signore perché tutta l'autorità Ti è stata data e Tu hai detto a noi andate e noi ci vogliamo andare con l'autorità del Vangelo l'autorità della parola di Dio ma soprattutto l'autorità della grazia di Dio quella grazia che ci è stata provveduta noi Padre diamo a Te tutta la loda e la gloria benedici il Tuo popolo e che il Tuo regno possa avanzare nei cuori di tutti i credenti nel nome di Gesù Cristo Amen fratelli andate in pace Grazie a tutti